Per fortuna Domenico che ci offre che cosa, basta Domenico, basta, accenderemo prima di subito. Mario, da loro, da loro. Un anno, un anno, andiamo a cuocerci a suonare, o nel caso un bicchietto. A un certo punto non vedo più una fisarmonia di suonare. Facciamo così, dico, chiamo via. Allora, vedo tutti i pinatti, non sapevo quale suonare. Dico, ma quale è il buono? Venta lui che te nascondi, andiamo a vincere questa bella. Delito! Bravo, bravo. Geli, forza un po'. Questo è un padrone buono di buone. L'accesso di vera volontà. Un pezzo di gel.